andiamo su, vai su, bravo, ottima, aspetta, stava con Balut, andiamo su, via 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 via, bravo, oh, questa c'è la spitta è diversa, sta bene? quando torna? eh, non lo sa, non lo chiamo, ribalzo, andiamo su, ehi, eccola, uuuuh, uuuuh mister, andiamo su, forza, su, andiamo su, tenia lì, bravo, vai, su, andiamo su, eccola, tenia lì, andiamo su, vai su, tenia lì, bravo, questa è ottima eh, andiamo su, ehi, eccola, ehi, occhio che a volte c'è da spingere meno eh, andiamo su, andiamo su, bravo, non mi portare la spada indietro, su, si, spada in avanti, tenia lì, va bene, va via, va via, va via, se c'è il corpo giusto, va via, andiamo su, ehi, andiamo, su, 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 le mani, le mani, andiamo su, 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 su Grazie a tutti.